La Val Pellice fa da esempio sul rischio sismico durante un'esercitazione interrotta la messa ed evacuata la chiesa come se ci fosse terremoto. Paolo Volpato. A Bricherasio il rischio sismico è basso, 3S, classificazione che riguarda circa 2.800 comuni in Italia ma il piccolo paese all'imbocco della Val Pellice è previdente ed è fra i primi ad attuare a pieno la prevenzione antisismica. Tre giorni di esercitazioni promosse con l'Ampas, la Croce Verde, la Protezione Civile, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco. Oggi il momento più importante. I fedeli riuniti a messa nella chiesa principale del paese, ecco una forte scossa simulata da un evidente effetto sonoro. La celebrazione è stata interrotta, la chiesa sgomberata, i cittadini hanno trovato ospitalità e ricovero nel campo di protezione civile con strutture di pernottamento, cucina mobile e le altre attrezzature. E' effettuato pure il soccorso di alcuni finti feriti. A tutti sono stati illustrati i corretti comportamenti da tenere in caso di Sciagura e con il gruppo dei giovani Ampas del Piemonte si è trovato pure il modo di dibattere alcuni sentiti temi dall'accoglienza dei migranti alla lotta contro le discriminazioni. Anche quello un modo per non trovarsi impreparati.